Sui resti ritrovati, un'equip medico-legale guidata dal professor Francesco Introna sta lavorando da giorni con l'obiettivo di dare forma ad un corpo, comprendere cosa lo abbia ridotto quasi in cenere e soprattutto dargli un nome. Accertamenti antropologici e sul DNA che si preannunciano lunghi e difficili. Introna ha ottenuto dal magistrato, titolare dell'inchiesta, l'autorizzazione all'acquisto di uno speciale collante che servirà a conservare i frammenti estremamente fragili per poi poterli ricomporre in un corpo. Non ci sono al momento elementi certi, scientifici, che colleghino quelle ossa bruciate all'uomo scomparso, ma solo una deduzione investigativa legata ai tempi e al luogo del ritrovamento. Pochi giorni dopo la scomparsa è a poche centinaia di metri dalla casa di Leopardi, a Valenzano. A segnalare ai carabinieri la presenza di resti ossei bruciati è stata proprio la moglie del corniciaio, che è stata a lungo ascoltata da PM e carabinieri per aiutarli a ricostruire gli ultimi spostamenti e contatti del marito. Quella che inizialmente era un'indagine per sequestro di persona è diventata omicidio a volontario e distruzione di cadavere. In attesa dei riscontri scientifici, la procura indaga per comprendere il possibile movente che avrebbe portato al delitto.